Nella ricorrenza del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, l'amministrazione comunale di Gioniro ha programmato questa pubblicazione speciale. La presentazione di questa sera riguarda il libro di Michele Rigito, Dentro la guerra, il titolo, Lettere dal fronte, nella valle del Chiese, 1915-1916. Saluto il sindaco di Gioniro, lo ringrazio per l'onore che vi ha conferito nel coordinare questi lavori e a sede, lo aspettiamo, lo attendiamo con molto piacere e a sede il sindaco di San Tarsiero di Potenza. E' qui presente la dottoressa Virginia Grassi, viene, ma si è da Potenza da 40 anni, viene da Storo, un paese che nel Trentino è stato al centro di tutte le vicende belliche di cui il nostro Rigillo è stato testimone oculare. Saluto il professor Antonio Lerra della Università degli Studi della Silicata e saluto ovviamente del professore Donato Martiello che è autore di un saggio storico che è parte integrante di questo libro. Leggo, sempre per forcere doverosi saluti, questa lettera proveniente dal Comune di Storo, in data 15 febbraio 2011 al Comune di Gioniro in Bultone. Facciamo sentito alla cortese telefonante del vostro vice sindaco Vito D'Angelo, che è assente, giustificato e a Milano per motivi di lavoro. Intercossi questi rapporti giorni fa con il nostro assessore alla cultura, nella quale ci veniva rivolto l'invito a partecipare alla presentazione del libro Dentro la guerra. La pubblicazione di questo volume storico, che ha visto la compartecipazione anche del nostro Comune, rappresenta l'espressione di quanto i rapporti umani condivisi tra comunità diverse e lontane in un periodo storico tormentato dalla guerra, assumano grande valenza al punto di sfociare in un progetto memoria che consolida nel tempo il nostro atto di amicizia. Pur essendo apprezzato il Vito, ad oggi, né il sottoscritto né altri rappresentanti dell'Aggiunta, possiamo essere presenti all'evento causa svariati impegni. Ringraziamo seguitamente, auspicando durerori e dinamici rapporti futuri, porre con i saluti il sindaco, cavaliere Vigilio Giovanni Melli. Questa iniziativa meritoria, come tante altre di questa amministrazione, vuole rendere omaggio alla figura di uno dei figli migliori di mio nero, Michele Arcangelo Riccitto, deceduto in 1958, testimone, dicevo poco fa, di drammatiche vicende della Prima Guerra Mondiale. La strada che questa amministrazione percorre da tempo è quella di investire in cultura, considerata sicuramente volare di crescita di questa comunità e anche occasione di recupero della sua identità. Bene, questo libro, per il suo contenuto, è un contributo notevole proprio al rafforzamento di questa identità. I sostenitori conflitti di questa pubblicazione sono stati tre sindaci, quello di Storo, di Potenza e di Mio Nero, i quali si sono avvarsi della collaborazione della più presente dottoressa Grassi, del professore Martiello e del professor Gianni Poletti, assente anche lui ovviamente da Storo, il quale ha ordinato cronologicamente le lettere e ha scritto l'introduzione al sindaco di Storo e al professor Poletti, ma il nostro saluto e la nostra gratitudine. Questa pubblicazione è un fatto eccezionale. Non è di tutti i giorni infatti trovare giù persone che, pur con culture diverse, lavorano in sinergia e ottengono risultati eccezionali, quale a mio modesto rubile allievo è questa pubblicazione. Evidentemente hanno lavorato insieme persone di grande cultura e di nobile sentire comune. Ora, come si sia giunti a questa pubblicazione, lo sapremo attraverso gli interventi che il resto seguirà di noi. Io mi limiterò soltanto a dire questo, per dovere di informazione, sia pure in sintesi. Le lettere di Vigillo più raccorte sono 29. Indulizzate tutte a Giustino Fortunato. Il senatore Giustino Fortunato, come risposta, ne scrisse soltanto 27. Che rapporto c'era tra Vigillo e Fortunato? Vigillo era un professore che nel 1914, con la sua famiglia, da un istituto tecnico di Matera, si trasferì a Torino, evidentemente per occupare lì una cattedra di lettere. Pare che sia stato lo stesso Fortunato, che è preso a cuore per giovane, a sollecitare questo trasferimento. C'era dunque un affettosissimo rapporto, proprio quello di altri tempi, quello tra il discepolo e il maestro. Giustino Fortunato, in questo caso, le insegneva adesso, il giustino Fortunato, il quale riceveva queste lettere, proprio qui, in questa casa, in questo palazzo all'ospedale, e le riceveva queste lettere ai suoi amici più fedeli, più cari. Sicuramente doveva essere presente Nitti, Ciasica, Salveni, ma perché no, anche Imenera, anche Giamolozino. Bene, tra queste salve, tra queste paletti, dove si respira l'aria della cultura in ogni angolo, Giustino Fortunato trepidava per la guerra, la prima guerra mondiale. Quella guerra che Giustino Fortunato avvertiva come uno sconvolgimento della compagine dello Stato. E trepidava perché in quegli anni al fronte, sul risonso, c'erano ben cinque ripunti dei Fortunato. E c'era quello più caro a lui, Peppino Vigiani, figlio della sorella, Carolina. Bene, oltre questo tema della bella, ci sono altri che sicuramente il professore Mattiello ericherà nel suo intervento. Mi ha affetto a chiudere per non rubare molto tempo, dicendo che Fortunato visse durante gli anni, dall'inizio e fino a tutti i diciassette, momenti drammatici della solità. Non solo, come dicevo, per la presenza dei nipoti al fronte. Ma forse anche non si dava pace per un voto dato a favore della guerra. Lui, nella veste di senatore, nella seduta del 21 maggio del 1920, lui era stato l'eurovalista convintissimo, purtroppo cedente alle pressioni sia di Salandra che di Sondino. Bene, forse per quel voto che forse per alcuni lionelisi ha perso come un portafaccia, Giussino Fortunato ha coccato quel voto. Forse, alla base di quell'inconsulto gesto commesso da un lionelese un certo Mauro Pomiglio, fu aggredito durante una famosa passeggiata alla periferia di Liono, verso il solito fontanino di Barile. Il fatto gravissimo per noi lionelesi è che, purtroppo, da quel momento si aprì un divano di ogni età, si può dire, di ogni amore tra Fortunato e Lionel. Fortunato, purtroppo, non accettando quel gesto di ingratitudine, se ne andò da Lionel e non lo so se per lui è stata una grave perdita. Ognuno faccia le sue riflessioni. Grazie. Sendo la parola al sindaco di Camino per gli occhi di saluti. Grazie. 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 Grazie, quindi devo ritenere indirettamente dal professor Poletti, è un libro che noi presentiamo con qualche ritardo, perché in realtà il libro è stato stampato a 90 anni dalla fine della prima guerra mondiale, ottobre-novembre 2008, e avremmo immaginato di presentarlo quando si fossero risedisponibili tutte le presenze alle quali avevamo pensato. Ma devo dire che tutto sommato questo ritardo ci consente di fare un discorso a partire da questo libro, a mio giudizio, veramente molto bello, perché molto ben curato, a partire anche nei suoi amparati iconografici, ci consente di fare un discorso che ha a che vedere anche con il tema di una gioia di attualità, di questo anno, di questo mese, di queste settimane, che è il tema dell'unità, visto che poi in fondo noi discutiamo del modo in cui si chiuse quello che convenzionalmente si chiama ultima delle guerre di indipendenza, guarda, quella di indipendenza, la prima guerra mondiale, e discutiamo quindi di qualcosa che ha comunque sempre a che vedere con l'unità nazionale, con il completamento del suo mosaico territoriale, e quindi con il tema del quale abbiamo discusso e suppondo discuteremo lungo tutto il corso di quest'anno.